Intesa San Paolo presenta Candida la tua impresa, l'iniziativa dedicata alle eccellenze imprenditoriali italiane che potranno utilizzare lo spazio Intesa San Paolo all'interno dell'Expo. Grazie al format Candida la tua impresa, centinaia di aziende avranno la possibilità di pianificare incontri, meeting, appuntamenti di lavoro e cercare opportunità di business anche a livello internazionale. L'iniziativa sarà promossa dalle strutture territoriali di Intesa San Paolo che avranno il compito di contattare le imprese e valutarne il profilo. I gestori imprese saranno il punto di contatto più importante con le aziende e veri promotori dell'iniziativa a livello locale. A novembre prenderà il via l'attività di comunicazione a supporto dell'iniziativa su tutte le piattaforme degli editori che inviterà le aziende e clienti ad aderire a Candida la tua impresa. Un'importante occasione che grazie al contributo fondamentale della rete della banca porterà l'eccellenza delle aziende italiane nello spazio d'intesa San Paolo all'Expo Milano 2015.